ciao a tutti benvenuti alla rassegna stampa di scazzo moderato oggi puntata ad alto tasso di complottismo oggi puntata per quelli così sciocchi da creare connessioni e fare ragionamenti su eventi che sono assolutamente totalmente separati e se voi credete che ci sia qualche connessione siete dei poveri sovranisti con la pentola in testa che hanno paura che bill gates gli legga il pensiero che lo dico io per primo no 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 noi dobbiamo prendere la realtà preconcezionata che ci viene data dall'elite e non mai permetterci di fare qualche ragionamento sopra se no siete dei poveri complottisti ok nazi trumpisti fasciolisti ok sovranisti bianchi quello che vedete sul mio schermo che dice è una scritta in inglese dice il traffico di esseri umani è un affare da 150 miliardi di dollari e gli stati uniti d'america sono la destinazione numero uno per il traffico di esseri umani è il più grande consumatore uno dei più grandi consumatori di sesso infantile questa scritta qui è la scritta che c'è alla fine di uno dei migliori film del 2023 in america perché in italia è stato rilasciato se non sbaglio in febbraio 2024 ma non solo uno dei migliori film dell'anno io vorrei dire quantomeno uno dei migliori film degli ultimi 20 o 30 anni un film di cui ho già parlato ovvero sound of freedom il canto della libertà in italiano fra l'altro traduzione molto non proprio precisa perché sound of freedom vuol dire il suono della libertà però però comunque all'interno della della storia anche il canto della libertà è rilevante ok allora per chi non si ricordasse questa storia perché non avesse visto in film si tratta di una storia vera ok di un agente dell'fbi storia vera al 100% non un povera non presa da una storia vera storia vera al 100% di un agente dell'fbi che va a caccia di trafficanti di bambini special modo pedofili ok questo infatti è un pedofilo il suo problema il suo problema è che ad un certo punto si rende conto che essendo lui parte del governo degli stati uniti ha una serie di limitazioni ovvero non può andare a caccia andare alla sorgente ok perché se deve andare alla sorgente i suoi capi dicono no ascolta cioè tu non è che prendi vai che ne so in venezuela o in costa rica o in salvador o chi sia più una più dovunque vogliate a cercare questa gente perché tu stai cercando cittadini non americani che commettono reati sul suono non americano ci sono dietro tutta una serie di procedure quindi non si può fare devi stare lì e devi seguire le regole lui ha un momento diciamo di smarrimento su questa cosa che lo manda un po' fuori dai gangheri e decide di licenziarsi lui ha al tempo credo che avesse già sei figli alla fine al momento ne ha nove ok quindi una persona con un ottimo stipendio un lavoro garantito eccetera si licenzia per andare dietro ai criminali criminali che trafficano bambini che criminali che fanno mercato di piedo pornografia ok lui questa è una persona questo è l'attore ma l'essere umano vero di come vi ho detto è una storia vera lui si chiama tim ballard timothy timothy ballard è uno degli eroi del secolo ok uno degli eroi io non riesco a immaginare una persona con un così alto livello di valore di etica che rischia avendo sei figli quindi rischia di non riuscire a mettere un piatto in tavola per la sua famiglia per riunire le famiglie altrui ditemi quando ci sono dove li trovate esseri umani così non si trovano tutti i giorni no a meno che voi lo so non abitiate ad asgard forse ci sono eroi dappertutto di gente così ne conosco poca questo film venne boicottato da tutte le ditte che lo chiamavano un film complottista un film fatto per i sovranisti per i cattobigotti per un sacco di già poi venne boicottato anche fisicamente con gli sclerati elettori di Kamala Harris che boicottavano le sale vi ho fatto vedere i video in cui toglievano l'aria condizionata qualcuno aveva messo la musica tecno non si è mai visto un errore così aveva dei problemi tecnici praticamente c'era l'audio del film con la gente che parlava però casualmente questo si andava a intersecare con la musica tecno a palla che rendeva praticamente impossibile vedere il film un incidente tecnici in decine di sale tecnici in decine di cinematografiche americane casualmente sempre tutti che avevano a che fare con questo film io finalmente l'ho visto un paio di giorni fa e vi dico che è un film non bello bellissimo e soprattutto bellissimo perché preso da una storia vera un film che in un mondo normale in una hollywood che ancora è sana di mente la hollywood di 30 anni fa ok che va dagli anni 70 ai primi anni 2000 ok in quella hollywood lì avrebbe preso una pioggia di oscar prima di andare avanti però perché comunque ci sono anche delle notizie di stampo politico che hanno a che fare con questo film e di cui voglio dare qualche aggiornamento ricordo a tutti quanti se non siete ancora followers di scherzo moderato mettete mi piace sulla pagina facebook iscrivetevi al canale youtube cliccando su iscriviti ma anche sulla campanellina sono due cose diverse ma uno serve per iscriversi al canale e l'altro per ricevere gli aggiornamenti è molto importante quindi cliccare che sulla campanellina se avete x seguite scazzo moderato anche su x se non ce l'avete scrivetevi perché comunque è un ottimo mezzo di informazione al momento fin tanto che c'è il masch e fin tanto che i democratici non glielo chiudono perché se vince camara harris trovo assolutamente probabile che x diventerà di nuovo come era prima un braccio armato del governo per fare propaganda perché lo coopteranno in qualsiasi modo possibile immaginabile dato un cazzottone al pulsante mi piace di questo video per aiutare un pochino il sistema a farlo girare a far capire che sarebbe il caso di far vedere un po di più i video di scazzo moderato e noi andiamo avanti mi sono guardato caso vuole i risultati degli oscar perché ho detto ma un film così bello avrà preso degli oscar come dicevo in una hollywood nord di gente sana di mente un film del genere avrebbe preso gli oscar così con la con la popa no prendevano la popa aperta manetta gli oscar che venivano fuori ciù 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 le statuette che proprio no basta statuette riprego basta zero statuette zero statuette ok zero statuette per la storia di uno che salva i bambini dai dai pedofili che fanno che li rapiscono a dare loro famiglie zero statuette come potete vedere c'è un'ottima fotografia non è un film di quelli fatti in casa un po capito un po stigati perché molto spesso comunque i film presi da storie vere sono produzioni un po di basso livello un po più televisive che cinematografiche questo ha un'ottima cinematografia ok un'ottima gestione delle luci eccetera dell'inquadratura delle telecamere ottima regia ottima recitazione sceneggiatura pazzesca zero statuette chi ha vinto miglior film openheimer un film di tre ore abbondanti che non è brutto attenzione l'ho visto un film meritevole preso anche quello da una storia vera però non ha un un decimo un decimo del valore morale di questo film degli insegnamenti di questo film dell'ammirazione che tutti gli esseri umani dovrebbero provare per questo uomo che ha rischiato non solo la sua vita perché comunque rischiava la vita tutti i giovani ma ha rischiato al di là della vita anche per essere stesso della sua famiglia guardate che è una cosa enorme è una cosa enorme bene perché c'è anche un risolto politico perché ho sentito questi giorni ieri mi stavo guardando un'intervista a jd vance che parlava dei test del dna cosa che io fra l'altro non sappiamo bene perché casualmente ministeri media ne hanno parlato così poco io guardo la cnn guardo i vari new york times eccetera ne hanno parlato veramente poco qua allora cominciamo da prima cosa è successo nel 2019 vi faccio vedere questo articolo di vice ovviamente giornale schieratissimo vuochissimo la privacy ricordatevi che bisogna sempre sempre difendere la privacy dei delinquenti ve l'ho detto anche io se ancora non avete capito siete proprio dei un gruppo che si chiama gruppo per i diritti alla privacy fa causa alla dgs che vuol dire homeland security ok è una delle agenzie di sicurezza per questa coercizione dei test del dna al confine trump il cattivo ok trump il perfido trump quello che adesso tutti i giorni anche sui giornali italiani ti dicono che sta perdendo il senno che ti fa per hitler che diventerà il nuovo dittatore la peggiore persona del mondo si era accorto del problema del traffico di minori verso gli stati uniti che come dicevamo è uno dei maggiori se non il maggiore consumatore di pedo pornografia quindi il razzista cattivo trump ha detto sai cosa facciamo scusami se tanto questi qua sono per lo più gente che porta i bambini in maniera illecita perché non sono i loro veri genitori probabilmente c'è anche qualche vero genitore che fa queste cose perché la schifezza dell'essere umano non ha limiti ma sono per lo più comunque trafficanti che rapiscono i bambini o magari li comprano in qualche modo facciamo una bella cosa facciamo un test del dna all'ingresso tutti quelli che magari potrebbero sembrare non proprio i genitori insomma ci sono le guardie gli fai il test del dna è risolto se quello è tuo figlio passi se non è tuo figlio campanello d'allarme fammi controllare un po meglio cosa sta succedendo perché tu sei con un bambino con un minore che non è tuo figlio cose sulle te 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 fammi vedere un po fammi fare due telefonate in ambasciato non è che sto bambino è sparito un ragionamento logico e ricordiamoci a sinistra la logica uguale male cattivo ok combattere la pedofilia usare la logica male cattivo cattivo che va male male cosa succede quando cambia l'amministrazione da trump a biden che i geni totali buoni inclusivoni equità inclusione solidarietà babababa antirazzismo che bella parola antirazzismo mi sento più buono l'ho detto ma mi è sfuggito un attimo non avevo previsto di antirazzismo già mi sento più buono hanno annullato un sacco di leggi che aveva fatto l'amministrazione trump contro l'immigrazione clandestina fra queste anche se tecnicamente non l'hanno annullata perché mi piace dare le informazioni adeguate non hanno rinnovato il contratto con l'azienda credo farmaceutica che forniva i test del dna ok perché ovviamente non è che i test del dna una cosa ci sono dei test rapidi del dna che venivano forniti da un'azienda privata durante l'amministrazione biden e ve lo faccio vedere qua allora l'amministrazione biden jettison che vuol dire elimina smette di usare insomma termina ok i test del dna per le famiglie al confine ok hanno fermato una cosa come hanno fatto per altre decine di leggi decreti presidenziali fatti da trump per limitare l'immigrazione anche in questo caso non hanno detto sì è bene no non è bene ci interessa non ci interessa ci ragioniamo non ce la ragioniamo la 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 teoria diciamo il principio cardine dei democratici è solo uno l'ha fatto tra a non è male a il cattivissimo trump ha fatto quello no 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 poi voglio dire se ci sono anche le riviste di sinistra e le ong che fanno causa alla homeland security perché si permettono di fare test e quindi vivono i diritti alla privacy dei trafficanti di bambini vabbè allora noi la cancelliamo questa cosa noi siamo buoni e quindi l'hanno cancellato secondo i dati attuali adesso qui mi ero sottolineato qualcosa vabbè qui per esempio dice che il 60 per cento dei bambini dov'è che ce l'abbiamo allora l'agenda l'agenda di biden di avere i confini completamente aperti sta scatenando una crisi umanitaria questo questo è una lettera governata dei dei fatta da alcuni parlamentari che chiedevano spiegazioni sul perché di certe scelte spiegazioni che non sono arrivato ovviamente nell'anno 2022 sono passati solo nell'anno 2022 2 milioni 760 mila immigrati clandestini che hanno attraversato quindi i confini sud i cartelli sfruttano queste queste politiche disastrose di biden e si stima che il 60 per cento dei minori non accompagnati sono forzati nella sono sono costretti a fare pornografia infantile e ad aiutare i trafficanti di droga nel trasportare le droghe perché magari i bambini non vengono analizzati o frisca si dice in inglese non so come si dice in italiano vabbè non gli fanno non gli controllano bene tutto quanto insomma magari va a capire gli infilano le droghe nel retto ai bambini cosa per un trafficante non è nessun problema ed evidentemente non è un problema neanche per l'amministrazione biden quindi il 60 per cento dei bambini che entra illegalmente negli stati uniti d'america finisce nella pedopornografia poi c'è un altro 40 per cento che probabilmente finisce in fabbriche clandestine che ci sono sul territorio americano anche queste grazie ai geni dell'amministrazione biden anche queste per l'altro hanno fatto un film quest'anno che si chiama the city of dreams anche anche il film di city of dreams è stato boicottato dalle elite qui fidiamo quindi con un po' di complottismo perché io ogni tanto mi faccio delle domande tiro delle 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 conclusioni delle righe di connessione che forse non dovrei fare per non farmi accusare di complottismo quindi tu hai un film che parla di pedopornografia che è un film bellissimo che fa un successo incredibile perché è costato 10 milioni e ne ha incassati 250 quindi uno dei più grandi successi commerciali di sempre che viene boicottato in fase iniziale perché le grosse compagnie di produzione non lo vogliono boicottato in fase di distribuzione perché non volevano distribuirlo e perché la gente stessa i fanatici walk dentro le sale cinematografiche non lo facevano uscire boicottato dai grandi festival cinematografici perché un film della madonna e ha vinto zero statuette ok quando poi invece per esempio la scena le sceneggiature originali eccetera o ha vinto la statuetta l'anno scorso il film flowers of the broken moon con leonardo di caprio che è un polpettone lento e noioso inguardabile probabilmente c'era leonardo di caprio e parlava di indiani che vengono uccisi quindi adesso noi siamo tutti la hollywood che odia la sua storia doveva dare i premi a quello lì e non al film contro i pedofili e dall'altro lato hai un'amministrazione che fa di tutto per permettere ai pedofili di fare questa cosa ancora di più non è che per caso c'è una connessione c'è quasi un aspetta aspetta fammi fammi ci ragiona un attimo ricordami una cosa chi erano quelli che andavano sull'isola dei pedofili di epstein a tutta gente che normalmente vota democratico mega miliardari che votano democratico chi sono adesso quelli che vanno nelle feste dei parti nelle orge di paf dedica in galera per sfruttamento dei minori maltrattamenti droghe a bambini eccetera a tutte mega star di hollywood che le loro votano tutte sinistra sempre bravi col pugno chiuso a quanto siamo buoni eccetera e poi fanno le feste con i bambini per da pedo porno versicata ci sarà mica una connessione no 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 scusate mi pento mi pento probabilmente questo video verrà cancellato o troverete un annuncio che ci sono delle informazioni poco corrette fake news eccetera andatevi voi a cercare se queste sono fake news questo è un documento ufficiale firmato da dei parlamentari americani che chiedono come mai l'amministrazione biden non ha rinnovato il contratto per fare i test del dna il temer lo vuoi con un bel commento qua sotto fatemi sapere come la pensate su questo video prima di chiudere ricordo anche a tutti quanti se siete rimasti fino ad ora collegati con me che ho rilasciato un libro che aiuterà molto a capire gli stati uniti d'america quello che succede la loro politica il loro modo dell'informazione si chiama america fiction lo trovate su amazon.it potete comprarlo sempre se ne kindle che in versione cartacea io preferisco cartaceo francamente a me leggere i libri su su uno schermo che sia il kindle che sia un computer un pa un ipad o quello che sia non mi piace molto detto questo noi ci vediamo al prossimo video state informati ciao 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 ciao